Ciao ragazzi e bentornati a Open Music in 90 secondi. Oggi abbiamo deciso di parlarvi del nuovissimo album di Destrage, The Susan One. Che dire di questo nuovo lavoro della band milanese? Sicuramente che come al solito troverete tantissimi spunti di riflessione, perché il mix di generi che i nostri cercano di mettere assieme è sicuramente elevato e di grande importanza. Pensiamo che all'interno di questo lavoro potrete trovare influenze metalcore, heavy metal, brog, gent... insomma riescono a trovare un'alchimia perfetta nonostante ci sia davvero tanto materiale sul quale lavorare. E per questo noi sosteniamo che sia una band ormai a livelli eccelsi, paragonabili a band dello stesso ambito musicale ma di fama più internazionale come Testeract o The Contortionist ad esempio, o Fairy Free. Quindi sicuramente un album da ascoltare, da ascoltare bene perché è molto cervellotti con alcuni tratti, in altri molto spiazzante perché troverete delle cose che... delle situazioni che per voi potrebbero non avere un senso ma che in realtà messe in quel preciso momento e in quel preciso modo danno un tocco di genialità all'ambientazione musicale che potrà soltanto che farvi rimanere a bocca aperta. Quindi il nostro consiglio assolutamente di ascoltarvelo, di andarli a vedere se possibile dal vivo perché è una band che davvero merita moltissimo e che dire... la nostra valutazione è sicuramente 8 BR su 10 e alla prossima, ciao! Ciao!